Nei giorni scorsi, come ricorderete, due barboni sono morti per il freddo qui a Torino. Noi siamo andati allora a vedere com'è la situazione nei dormitori pubblici qui in città. Ci sono 600 posti letto, un numero che dovrebbe essere sufficiente, ma non basta a risolvere il problema. Nessuno infatti può essere costretto ad andare in un dormitorio. Sentiamo Paolo Volpato. 8 case di ospitalità notturna, una in ristrutturazione, che offrono circa 300 posti letto. Altri 300 posti sono offerti da associazioni private di volontariato, un universo che pochi conoscono. Questi 600 posti letto non sono tutti pieni nemmeno in queste gelide notti invernali. Accade spesso con la struttura della Pellerina, 120 letti disponibili anche per immigrati non in regola o tossicodipendenti. Che dunque di recente a Torino siano morti per strada, di freddo, due senza dimora, è doppiamente doloroso, come ha sottolineato il Vescovo Nosiglia, per le vite perse e per la presenza di posti letto liberi. Il punto centrale è che nessuno può costringere un disperato a entrare nel dormitorio. I contatti con l'assistenza ci sono, di giorno e di notte, ma non sempre il contatto è fruttuoso. Ci sono dei periodi in cui comunque le persone magari dormono per una notte, due notti e poi si allontanano di nuovo, frequentano altri luoghi. Il disagio non è facile da contattare, insomma? Il disagio è molto difficile da contattare. Il servizio assistenza, voluto dal Comune di Torino tramite alcune cooperative, è graduale. Prevede l'immediata disponibilità di un posto letto, prevede la permanenza in dormitorio e alcune attività, infine prevede l'avvio a una sorta di residenza, anche formalizzata, in modo da avere tutti i benefici. Qui vedete la struttura di via Marsigli a Torino, 31 posti, fino a 18 mesi di possibile permanenza, un negozio equo e solidale gestito dalla cooperativa Nara e presto un laboratorio dentistico a prezzi controllati. Passi concreti verso il pieno rientro in società.